Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e dopo ben due anni di ritardo vi parlo del mio T300 Ferrari GTE della Thrustmaster. Questo volante ha una base force feedback con servomotore a 1080 gradi di stersata e integra un servomotore brushless di classe industriale. Ha un effetto force feedback lineare e fluidissimo con effetti di forza realistici ed ultra-reattivi. Ha un nuovo meccanismo ottimizzato a doppia cinghia, privo di attrito, con sforzi fluidi e lineari, sistema silenziosissimo il che non perde praticamente mai la sua forza, cioè non si hanno mai cali di prestazione con questa tipologia di servobase. È un volante ad altissima precisione con tecnologia EARTH, quindi ALFELT EFFECT ACCURATE RATE TECHNOLOGY, con un sensore magnetico privo di contatti, precisione costante nel tempo, con una risoluzione a 16 bit, ovvero 65.536 valori lungo lo sterzo. Quindi pensate un attivino che tipo di precisione può avere questo sterzo. L'angolo di rotazione è regolabile da 270 gradi a 1080, come dicevo poc'anzi, per potersi adattare al vostro stile di guida e alla tipologia di simulazione che usate. Ha una memoria interna e un firmware aggiornabile, d'altronde penso che farò un video in merito a questa tipologia di aggiornamento. Il volante, che attualmente ho montato in occasione per voi, è la replica rimovibile in scala 7.10 del volante della Ferrari 458 Challenge. Include quattro pulsanti ufficiali PlayStation 4, il tasto PS, Share Option, che permette di accedere alle nuove funzionalità social passando istantaneamente dal gioco al sistema in qualunque momento. Infatti si ha la possibilità di regolare la modalità PS3 o PS4. Realistico, volante da 28 cm di diametro, dotato di razze centrali in metallo serigrafato. Ha un rivestimento in gomma trattata rinforzata lungo l'intera circoferenza del volante. Pesa circa 1200 grammi di peso per inerze e force feedback ultra realistici, con due ampie leve del cambio fissate sul volante, che sono alte 13 cm al 100% in metallo. Tuck switch con ciclo vitale da oltre 10 milioni di attivazioni. Completa dotazione di guida con 8 pulsanti di azione, di cui 2 sulla base, più un D-Paid e un manettino a tre posizioni con funzione push al centro. Il volante rimorribile dotato di sistema Thrustmaster Quick Release, che passa facilmente da un volante all'altro, che tra poco vi farò vedere. Per quanto riguarda la compatibilità, è naturalmente compatibile con PC, ha la licenza ufficiale PS4 o PS3, come dicevo prima, con riconoscimento automatico da parte del sistema PS4, e selettore scorrevole PS4 o PS3, di cui vi parlavo poco anzi, per una perfetta compatibilità su entrambi i sistemi. È dotato di un sistema di fissaggio robusto e versatile, compreso nella scatola, che io ovviamente non ho utilizzato, perché appunto ho montato sulla GTD Seat, e vi invito ad andare a vedere la recensione che abbiamo fatto tempo fa su questa magnifica postazione made home della comunità di GTDrivers.it. Nel bundle è compreso anche la pedaglia in metallo totalmente regolabile, quindi ci sono due pedali in metallo a corsa lunga, un pedale del freno con una resistenza progressiva, ovviamente ragazzi non è una Fanatec Club Sport V3, sono dei pedali che è totalmente regolabile in altezza, a distanza per sei possibili posizioni per ciascun pedale. È dotato di un ecosistema, scusatemi, compatibile con tutti i volanti rimovibili attualmente disponibili sul mercato, quali il Ferrari F1 Add-on che vedete in sottofondo, il Ferrari GTE Add-on, questo qui, il T500RS GT-Well, e i basefix and paddle shift kit compatibili, compresi anche la pedaliera T3PA, quindi la Trasmaster sarebbe del TS500, quindi a tre pedali, e del T500RS, ed è compatibile con i sistemi per il cambio di marcia, quali TH8A e TH8RS. Cosa dire? L'importante con questa tipologia di accessorio è importante sempre il ritorno, l'esperienza personale che si possa avere. Io vi posso dire che sono oltre due anni che ho questo volante, non sono assolutamente lentito del mio acquisto, perché il rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale, in più la possibilità di intercambiare i vari accessori volante, più mettere i vari cambi ad H o sequenziali, sono qualcun di più. La qualità Trasmaster è presente, il motore Brushless fa veramente il suo lavoro, quindi io non posso che consigliarvi, se dovete comprare un accessorio di questo tipo, un volante, non esitate un secondo, questo per qualità-rapporto qualità-prezzo, è quello che fa per voi. Adesso vediamo un attimino come funziona il sistema Quick Release. E quindi come si fa per cambiare volante, e ve lo faccio vedere subito, basta con il Quick Release svitare la vite che ho fatto io precedentemente, non volevo farvi vedere, per fissare il tutto, si gira il Quick Release per poi togliere il volante. Vedete qua, io tolgo il volante per cambiarlo, poi basta fissare qui, c'è una specie di pinna che risponde, che praticamente assomiglia molto a un connettore PS2, poi basta qui fissarlo, avvitare il Quick Release, basta avvitare qua, si gira, si fissa, poi qua dietro non si vede dall'inquadratura, ma c'è il foro per inserire la vite, per bloccare il tutto, e il gioco è fatto, si è cambiato di volante. Io è da un po' che non lo utilizzo, quindi rimetto il classico della 458 GTE, perché non è che mi sono stufato ragazzi, però ogni tanto ricambiare va bene. Il prossimo acquisto sicuramente farò quello, comprerò quello della 599, perché un caro amico mio l'ha comprato così, mi ha detto che il rivestimento in Alcantara è qualcosa di spettacolare, io avevo già con il Fanatec, il GT3 mi pare, si, RS2, avevo già l'impugnatura in Alcantara e onestamente aveva un suo perché. Ecco qua. Ok, rifissato il volante della 458 ragazzi, è stato un gioco da ragazzi, basta metterlo in modo giusto, poi fissarlo con una vite ed il gioco è fatto, e quindi si è cambiato. Ragazzi, io penso di aver fatto il giro, vi ho un po' detto le caratteristiche tecniche di questo fantastico accessorio per la simulazione, vi ho fatto vedere il quick release, io vi ringrazio per avermi seguito, non esitate, un pollice in su ragazzi, iscrivetevi, lasciate un commento qui sotto, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Grazie!